Dopo che la Fed ha mantenuto i tassi di interesse invariati, Bitcoin è rimasto abbastanza resiliente e ora sta avendo una leggera ripresa. Ciao a tutti, sono Dista e bentornati su MyInTheChart. Sì perché Bitcoin al momento non si trova in acque perfette, però tutto sommato si sta un pochettino riprendendo. Ovviamente stiamo andando a fare una year low mensile, lo vediamo direttamente sul grafico mensile perché da qui abbiamo rotto l'inside bar sul time frame mensile, abbiamo chiuso il mese di aprile, non molto bene e ora siamo in consolidazione mensile. Ovviamente ci sono vari target, io non ho ancora incominciato a scalare, però verso i 52.000-50.000 incomincerò a rientrare. Ovviamente lo consiglio finanziari, fate sempre le vostre ricerche quando fate investimenti, mi raccomando non sono un consulente finanziario e quindi avendo aperto il mese in maniera abbastanza negativa abbiamo visto maggiore debolezza. Chiaramente adesso ognuno ha i suoi target, dipende un po' cosa uno vuole fare. Sul time frame settimanale, vedete, ora stiamo un pochettino recuperando, ma secondo me un buon supporto potrebbe essere la 26 EMA settimanale, intorno ai 53.000. Ma se andiamo a tirare anche Fibonacci, così andiamo un po' a capire quello che vi sto dicendo e andiamo un po' a capire i vari target point, se tiriamo dello swing low allo swing high, vedete, abbiamo rotto lo 0.38, siamo andati verso lo 0.5 e ora stiamo cercando di recuperare la zona 0.38, quindi non è detto che andremo avanti a scendere, potrebbe anche avvenire uno stop allo 0.5 Fibonacci, oppure se rompiamo queste zone, vedete, poi abbiamo lo 0.61 e 8, che corrisponde verso i 52.000 dollari. Secondo me la fascia dai 52.000 ai 45.000 è una fascia molto interessante per Bitcoin, secondo me accumulare Bitcoin in queste zone sarebbe fantastico, non è detto che andremo, ovviamente la pazienza ripagherà. Io non sono ancora entrato in questa consolidazione, perché comunque non ritengo ancora livelli molto interessanti per entrare, ma ovviamente è un mio game plan, perché ho ancora delle posizioni in Bitcoin, quindi non è che sono scoperto da dire devo rientrare tutti i costi, voglio rientrare verso i 52.000, infatti ho un po' di ordini, poco sotto i 53.000 fino ai 45.000, ho messo un po' di ordini nel caso entrerà molta volatilità. Se andiamo sul giornaliero e vediamo un po' meglio il pattern che sta seguendo Bitcoin, questa è una potenziale bear flag sul time frame giornaliero, dobbiamo salire molto di più. Diciamo che stiamo andando a fare un bounce sul giorno, perché abbiamo cambiato il trend sul time frame 4 ore, quindi sta avvenendo un lower high. Quindi per lasciarci alle spalle questa consolidazione, dobbiamo andare a cambiare il trend sul time frame giornaliero, quindi andare a fare un lower high, un higher low e poi romper un higher high. E in quel caso andremo a cambiare il trend, anche se non sarà per nulla semplice, perché teniamo in mente che adesso Bitcoin si trova nella fascia tra i 55.000 e i 74.000 dollari, quindi secondo me potrebbe ancora comunque avvenire una fase abbastanza noiosa, ma comunque era abbastanza scontato vedere un mercato così forte e resiliente per tutti questi anni, anno e mezzo, e ci sta comunque vedere questo tipo di correzione. Un altro target interessante è la 200 EMA sul time frame giornaliero in zona 52.000. Secondo me questo è un supporto stra importante, questo è un supporto che non sarà facile da andare a rompere, perché comunque tutto sommato abbiamo ancora il trend su larga scala a nostro favore, quindi il bull trend. E vedete che da quando abbiamo rotto, a ottobre 2023, la 200 EMA giornaliera, siamo rimasti sempre sopra, quindi penso che potrebbe essere ancora un magnete, quindi un supporto che potrebbe essere testato, testato, ma che potrebbe comunque fare da supporto importante nel medio e lungo termine. Prima di continuare, se fate trading, vi ricordo che Bitcat ha lanciato una nuova promo del mese, fino a 200 USDT in premi. Diciamo che è uno dei migliori bonus sul mercato. Noi utilizziamo Bitcat da un bel poli tempo e facciamo, diciamo, la maggior parte delle operazioni direttamente sull'exchange. Inoltre voglio anche ricordarvi che abbiamo lanciato il nostro progetto RUNS, Bittrex di Etcher, che su Luminex è in prima pagina, e abbiamo già 131 holder. In ogni modo, questo è un progetto community driven, che dipenderà da voi, e quindi non da noi, perché diciamo che è in mano vostra, noi abbiamo solo il 2% della supply, tutto il resto è mintabile. In ogni modo, troverete tutti i link in descrizione, se volete far crescere questo progetto con noi. Ora, andiamo a vedere un po' insieme cosa stanno facendo gli ETF. Sì, perché nella giornata di ieri, gli exchange trade found di Bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato il più grande deflusso giornaliero. E lo vediamo direttamente da questo grafico, con un prelievo di 564 milioni di dollari questo mercoledì, a causa del calo di Bitcoin. Quindi diciamo che non potevamo pensare solo sempre in afflusso costanti. Nonostante ciò, i Bitcoin ETF hanno ancora un afflusso netto di oltre 11 miliardi di dollari fino ad oggi. Quindi, tutto sommato, sono andati molto molto bene dal lancio. Se non lo sapete, qualche giorno fa, sono stati listati i primi ETF Bitcoin a Hong Kong, però non hanno avuto un grandissimo successo e secondo me ci vorrà ancora un pochettino di tempo. E la cosa molto interessante, soprattutto in Europa, abbiamo visto che la banca francese BNP Paribas ha iniziato ad acquistare azioni del fondo iShares Bitcoin Trust di BlackRock e attualmente possiede una piccola esposizione a Bitcoin attraverso l'ETF. E quindi diciamo che, siccome è una delle banche più grandi d'Europa, potrebbe portare a molta tendenza e quindi, chiaramente, era notizia molto importante che dovevamo prestare assolutamente attenzione. Chiaramente adesso avere un piano, secondo me, è molto molto importante, soprattutto per quanto riguarda Bitcoin, perché ci può salvare assolutamente. E questa è una fase anche molto interessante, secondo me, per coloro che non sono ancora entrati, perché, secondo me, questo è un buon momento per capire un po' come vogliamo muoverci. Quindi, non dico che sono stracontento che Bitcoin sta scendendo, però, non fate panico, perché è un momento molto interessante dove c'è un pochettino di quiete, però ci permette comunque di muoverci un pochettino. Nel caso rientriamo, possiamo rientrare con delle posizioni e ricostruire posizioni per un potenziale oltre mai. Sì, perché penso che, tutto sommato, il ciclo bull non è ancora terminato, le altcoin non hanno fatto ancora nulla, non abbiamo visto ancora una rotazione dei fondi per quanto riguarda le altcoin, e quindi non è ancora avvenuto un altcoin season, che, secondo me, potrebbe ancora avvenire, però non ci sono ancora le condizioni per poter avvenire questa altcoin season. Stiamo vedendo che la Bitcoin Dominance dà un anno e mezzo a questa parte, cioè sta facendo la padrona. Quindi sarà ancora molto difficile da vedere un altcoin season. Vedete quanto è forte il trend. E quindi automaticamente qua dobbiamo vedere un cambio netto del trend a ribasso sul time frame prima settimanale e poi mensile. Ma lo stesso anche tiri un contro Bitcoin. Vedete cosa stiamo seguendo. E quindi automaticamente anche qui troppo bearish, ma lo stesso vale anche per il total 2. Al momento ha perso un pochettino. E quindi automaticamente non ci sono ancora, secondo me, le condizioni necessarie. Dobbiamo vedere un Bitcoin che si porta verso i 100.000 dollari. E in quel caso potrebbe avvenire l'ultimo ciclo dove avverrà l'altcoin season prima di un potenziale bear market. Ovviamente nessuno può saperlo. Dobbiamo sempre rimanere sul pezzo aggiornati per capire un po' tutti gli andamenti. In caso avverrà una potenziale rotazione dei fondi, secondo me molti bag holders di altcoin se ne vanno un po' a liberare. Sì, perché molti altcoin non hanno messo molto e quindi essendo sottoperformanti molti non le stanno vendendo. Ma anch'io ho ancora un po' di disposizione in qualche altcoin che non ho venduto perché non hanno fatto buone performance. E preferisco aspettare questa narrativa di un Bitcoin che rompa ancora rialzo inoltre mai. Ovviamente non mi aspetto che domani i Bitcoin rompa inoltre mai. Cioè possiamo anche farlo questo autunno. Potrebbe essere anche un'estate abbastanza piatta. Ma a noi che ce ne frega. Non è perché adesso Bitcoin rimane un po' in fase laterale. Ci dobbiamo preoccupare. Ci vuole ancora del tempo per poter tornare inoltre mai. Chiaramente poi nessuno sa l'andamento del prezzo di Bitcoin nel medio e lungo termine. Ma penso ancora che i 100.000 dollari potrebbero essere un target ancora interessante e appetibile per il mercato. Inoltre vi ricordo che qualche giorno fa è uscito un nuovo episodio di Shillers. Il podcast che non sapevi di aver bisogno. Mi raccomando buttate un occhio a tutti i link in descrizione. Io con ciò vi saluto e ci vediamo domani al prossimo cripto appuntamento.